Musica Venerdì 27 gennaio 2012 siamo con Jonathan Mirai al Pedro, buonasera Grande serata di Sherwood Open Live, ci sarà uno spettacolo teatrale, l'esecuzione poi acustica di Jonathan Quale appunto chiediamo di raccontarci di questo suo primo lavoro da solista, allusioni, che è stato definito come una suite divisa in cinque movimenti, sei d'accordo? Sì, è quello che è, è una suite, vabbè, dire suite mi piacerebbe che fosse con la SVWT, suite, nel senso di dolce in inglese Perché la suite è un concetto che viene dalla musica classica, non ho fatto un disco di musica classica Però è un lungo arpeggio strumentale suonato con 12 corde in finger peaking con le dita È diviso in cinque parti che funzionano in soluzioni di continuità Insomma è un unico lungo arpeggio di una ventina di minuti Esatto, noi l'abbiamo già sentito al Conchetta, poi alla Tempesta, alla Notte della Tempesta, al Rivolta E venendo di suonare mi è venuta una domanda da farti una cosa che ho sempre voluto chiederti È una domanda un po' difficile però Ci puoi descrivere quali emozioni provi? Cosa senti mentre sei proteso sul manico della tua chitarra che sembra che stai inseguendo le note Nel momento in cui decidi di inseguirle le hai già raggiunte? E le ho già perse anche Beh è strano perché dipende tanto dalla situazione in cui suono, quello che succede mentre suono C'è una componente tecnica di allenamento di base che deve esserci Quindi di base sto cercando di calibrare la fatica perché devo suonare per 25 minuti di fila senza fermarmi Quindi se spingo troppo e non sono abbastanza allenato per quel giorno Poi dipende sempre dalle situazioni, va a finire che finisco stanco Ok, però superato quell'aspetto lì c'è un aspetto diverso che è proprio quando si crea una specie di connessione Con le persone che mi stanno ascoltando, l'attenzione della gente che mi ascolta Fa in modo che io reagisca e suoni in un determinato modo piuttosto che in un altro Quindi mentre suoni c'è una certa empatia anche con il pub Io sono dentro quello che sto facendo, di brutto Io ho uno schema che va avanti nella testa e lo sto mettendo in pratica improvvisandoci anche perché più concerti faccio più improvviso E quindi sono già in una cosa mia Però questa cosa qua è emotivamente legata tantissimo alla gente che ho di fronte Ho fatto dei concerti incredibili con le persone che si sentiva che stavano venendo E li stavo proprio portando in giro Ci puoi dire dove è stato? Oh sì, recentemente ho fatto un concerto molto bello a Cremona In un'Arci a Cremona Ho suonato da Spalli Verdena a Torino al Teatro della Concordia Ed è stata una bellissima esperienza perché ero fisicamente proprio caldo E quindi l'aspetto della resistenza non c'era Il problema mio, cioè l'attenzione sulla resistenza, sull'esecuzione non c'era E mi sono goduto proprio il fatto di avere di fronte un sacco di gente Che era abbastanza stranita dalla situazione perché ero di Spalli Verdena Quindi loro volevano vedere il Verdena Ho suonato velocissimo, ci ho impiegato poco Ma è stato veramente un proiettile, è stato figo Ci sono state diverse situazioni, ce ne sono tante In Belgio ho fatto un piccolo tour in novembre C'è stato l'ultimo concerto che ho fatto a Mons In una piccola cittadina, in un pub È stata veramente una figata C'era un impianto gigante dentro uno spazio minuscolo E dei volumi atomici E questa cosa qua se riesci a farla arrivare E la gente è presa bene diventa un momento in cui si crea Perché è una specie di, dicono una cosa così un po' da fricchettone Però è una specie di mantra di 25 minuti Quindi proprio se uno mi segue Il suono fa, cioè sposta l'aria in qualche modo Quindi si vengono a creare proprio delle sensazioni nell'aria che sono una figata Anche a Roma il Circo degli Artisti Un paio di settimane fa è stato un bel concerto Cioè è proprio figo Tutti addosso proprio perché è strano, figo E noi ci auguriamo che sia così anche questa sera Lo spero, lo spero Mi sono allenato per questo Allora devo chiederti una cosa Ho letto diverse tue interviste E ne ho letta una di cui ti chiedo di confermare un piccolo dato Il tuo imprinting musicale Insomma tu hai dichiarato che hai scoperto il piacere della musica Passando le ore a ballare di fronte alla lavatrice in centrifuga Sì cazzo è vero Ma avevo due anni Un anno e mezzo, due anni Quando stavo in piedi Ma qual era il piacere che tu provavi? Perché cazzo la centrifuga della lavatrice Quando sono andato a vivere da solo per i successa questa cosa Dei successa avevo 23, 24 anni C'è un ritmo nella lavatrice che va in centrifuga Ed è un ritmo che parte lento e diventa velocissimo E se ti piace il ritmo Cazzo è figo Io veramente quando ho ricominciato a fare lavatrici da solo Senza la mamma che te la fa Ti trovi, le prime volte stavo giuro Un'ora e mezzo a guardare la lavatrice che andava Perché si creano delle ritmi che dentro che sono fighissime Gli impanni che si muovono, creano proprio, ribalzano in modi che C'ha due ritmi che sono veramente fighe La centrifuga è il momento È l'apertura del concerto Hardcore Sì 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 E Michele Novaro incontra Mameli E insieme scrivono un pezzo tutt'ora in boga Mentre io Aspettavo